Accesso diretto 12-25 anni senza se e senza ma. Anticipato la direttiva del generale Figliolo, che ieri aveva chiesto alle regioni, a partire dal 16 di agosto, di garantire una corsia preferenziale ai 12-18 anni, non solo Mazzai ha deciso di allargare la maglia fino ai 25 anni. È una delle novità illustrate dal presidente, dunque fino al 30 di agosto questa fascia di età potrà recarsi in qualsiasi centro vaccinale Veneto senza prenotazione. Da domani chi vuole anticipare la seconda dose, avendo già maturato i 21 giorni di Pfizer dalla prima dose, o i 28 giorni dalla prima dose per Moderna, può presentarsi in un centro vaccinale e chiedere l'anticipo. Continuiamo a spingere su una prevenzione serrata, dice Zaia, che poi aggiunge le nuove seconde dosi per le prime vaccinazioni fatte da domani saranno fissate a 21-28 giorni ed ancora i Veneti, che si trovano in vacanza all'interno della regione, potranno prenotarsi dal portale anche nei centri vaccinali al di fuori della loro ULS. Può tranquillamente prenotarsi la sua vaccinazione fuori provincia, fuori ULS, ma sempre nel territorio Veneto. Non ultimo, gli imprenditori Veneti in giro per il mondo che si sono vaccinati all'estero e devono rientrare in Italia, hanno modo attraverso la loro ULS di scaricare il Green Pass. Ovviamente, sottolinea Zaia, i vaccini fatti devono essere quelli autorizzati dall'EMA. Oggi abbiamo ragionevoli motivi per dire che agosto è il mese chiave, nel quale ce la giochiamo tutta, dice. La media regionale delle vaccinazioni ricorda il 70% e ad ottobre arriverà all'80%. Confermiamo che in terapia intensiva la quasi totalità dei 28, forse 26, sono non vaccinati. Ma soprattutto, il dato inquietante è che dai 50 ai 59, è la fascia di età nella quale sono praticamente anche lì, penso il 90% o giù di lì, non vaccinati e ricoverati in ospedale. Altro tema è stato quello della terza dose. Ad oggi ancora è un'incognita ferma Zaia. Se sarà confermata dovremo fare altri 4 milioni di inoculazioni, sottraendo quindi personale e sanitario da tutte le altre attività. Servirà l'aiuto di medici di base e farmacie.